A che punto siamo con l'impaginazione? È quasi finita. Il territorio sta cambiando pelle. E noi stiamo assistendo ai soliti passi della criminalità organizzata. Questa zona è contaminata da anni. Ci vuole qualcuno che si metta contro questo apparato. Questo Riva sta cominciando a stancarmi. Guarda che ha scritto. Mimmo, qui se l'affare della discarica passa alla regione e passa, siamo vottuti. Questa storia l'ho presa troppo alla leggera. E tu pensi con le parole di poter convincere uno che scrive? La pubblicità negativa che sta facendo quotidianamente il direttore del vostro giornale verso tutti i miei amici mi farà prendere delle drastiche decisioni. La parola, la ricerca della verità, il coraggio della denuncia. Ecco, queste sono le nostre armi. La mia idea è quella di creare un giornale tutto nostro. Senza padroni. Io ci sono. Ci siamo tutti. Abbiamo bisogno di tempo per capire. E le tue figlie hanno bisogno di te. E allora aiutami. Aiutami. Non sa che mi devi dare un passaggio. Mi stai nascolando. Facciamola noi. Una bella pulizia. Siamo giornalisti. E in quanto giornalisti dobbiamo ricercare la verità. E la verità raccontano i fatti. I fatti hanno sempre. Nomi e cognomi. Sempre.